Buon pomeriggio a tutti, benvenuti nella Sala della Regione della Camera dei Deputati per un evento che inizia oggi ma in realtà è soltanto il calcio d'inizio di un percorso che intendiamo tutti insieme percorrere. Il titolo è abbastanza chiaro, infatti si parla di cammino dell'alfabetizzazione ed è qualcosa che ha a che fare poco con il pronto soccorso legislativo e molto con la capacità invece di non agire, non muoversi secondo criteri di necessità e urgenza come si dice nel lessico parlamentare ma di avere invece una strada che deve essere precisa ma condivisa verso l'obiettivo. Il rischio, lo dico con molta chiarezza, visto l'auditorio che c'è, visto le personalità che oggi sono presenti in sala, io non ringrazio uno per uno i relatori perché ognuno di loro meriterebbe una presentazione a parte ma sono oggettivamente per il livello, per la professionalità, per quello che rappresentano davvero la summa di ciò che esprime oggi il digitale in tutti i settori. Devo un ringraziamento al sottosegretario e alla presenza del Consiglio Alessio Butti che, come sapete, in questi giorni è stato impegnato a Trento per il G7 che riguarda proprio il digitale, ha voluto essere presente in un'altra forma, infatti leggeremo un suo messaggio ma ringrazio di cuore Marco Snato che è il Presidente della Sesta Commissione che è colui che sarà chiamato a tirar fuori i quattrini per l'affabetizzazione digitale insieme poi agli amici della Commissione Bilancio. Perché questo convegno? Questo convegno, vi dicevo, è l'inizio di un percorso che idealmente porterà di qui a qualche mese a una giornata del digitale, chiameremo il Digital Day, ma dovrà portare a un provvedimento legislativo, a una proposta di legge legislativa condivisa, aperta al contributo di tutte le forze politiche che indichi il percorso che vogliamo fare. Il rischio è quello da evitare di una sorta di sottosviluppo digitale. Noi parliamo di sviluppo digitale, il rischio è vero di un sottosviluppo digitale. Di recente la Banca Mondiale ha lanciato l'allarme riguardo la necessità di coniugare in maniera più stretta sia le innovazioni tecnologiche ma soprattutto la capacità di utilizzare gli strumenti che sono a disposizione in ambito imprenditoriale. L'Italia sappiamo che ha questo tessuto economico che è al 90% di piccole e medie imprese, parliamo sempre di nanismo da questo punto di vista, ma con questo dobbiamo avere a che fare. Quindi nonostante tutti i tentativi di patrimonializzare e di portare le nostre imprese in borsa la situazione che oggi sapete è questa. Quindi 90% piccole e medie imprese che da sole hanno l'80% degli occupati. Già questi due numeri dovrebbero farci ragionare su quello che oggi accade. Lo scenario generale delle competenze ci rimanda a una sorta di pagella calitale. Devo dirvi che la pagella, come andremo adesso ad elencare, non è che sia straordinaria. Siamo al diciottesimo posto nell'indice europeo di digitalizzazione, il DESI. Stiamo crescendo per carità rispetto al venticinquesimo posto della scorsa rilevazione, però ci indica questa posizione due fattori. Il primo, che secondo me è più rilevante, è quello che mal si concilia il dato con la rilevanza dell'economia italiana. Il secondo è che, nonostante ci sia stata oggettivamente una crescita storica negli anni, anni in cui, devo dire, con un'altrettanta franchezza ci siamo un po' distinti per l'immobilismo, la strada da percorrere resta davvero considerevole se si pensa che sia chi precede, sia chi segue, tende a correre molto più velocemente di noi. Allora, nel merito rispetto alle competenze in ambito finanziario, noi abbiamo un problema legato al livello di alfabetizzazione nel contesto finanziario. Nell'ultimo decennio, digitale e finanza si sono notevolmente avvicinati, hanno in alcuni campi superato le barriere e l'edizione del 2023, fatta dalla Banca d'Italia, l'indagine campionaria sull'alfabetizzazione finanziaria, ci dice che c'è una crescita evidente. Nel 2023 rispetto al 2020, il livello di alfabetizzazione finanziaria degli adulti in Italia è basso perché è al 10,6 rispetto al 10,2 del 20, il problema è che la scala che ci misuriamo è da 0 a 20, se fosse una pagella sarebbe un 5, che non è un risultato di promozione, ma anzi se trovi il professore particolarmente severo ti dà pure il credito, il debito per gli esami. Vediamo un po' allora i comportamenti. Sui comportamenti il nostro indice ci dice che siamo al 4,6, qual è in questo caso l'indice? 0,9 e quindi è un altro 5 in pagella. Gli atteggiamenti? Gli atteggiamenti siamo al 2,3, qual è l'indice? 0,4, un altro 5 meno in questo caso. Allora, la finanza digitale. La finanza digitale è il punteggio degli italiani in media di 4,4 su 10 e quindi qui c'è una grave insufficienza da colmare. Allora, quello che vorrei trasferirvi e rispetto a recepire quello che esce da questo convegno è la necessità di dare uno shock, uno shock vero che riguardi l'alfabetizzazione digitale ma anche quella finanziaria che è strettamente legata. Allora, è arrivato il momento di ripensare radicalmente l'alfabetizzazione nei settori tenendo presente che non esiste una sola ma ne esistono diverse perché vanno coniugate nei vari campi e quindi quella finanziaria, quella assicurativa, quella previdenziale, quella fiscale perché io sto vivendo un momento di crisi enorme visto che sono alle prese con l'agenzia delle entrate e della riscossione, le quali mi stanno facendo letteralmente uscire matto, nel provare a capire dove si annida un banco che pretenderebbe da me qualche decina di migliaia di euro di cose di 5 anni fa, ma sto uscendo matto. Quindi sono il primo ad aver bisogno dell'alfabetizzazione in questo caso fiscale. E poi c'è quella che abbraccia tutti, che è quella digitale e abbraccia tutti questi campi che ci siamo detti. Allora, qual è l'idea? L'idea è quella di costituire un'agenzia per l'alfabetizzazione digitale e finanziaria che ha come compito la definizione pratica dei piani di alfabetizzazione con la loro implementazione a livello nazionale e territoriale. Siamo in una fase di transizione in cui abbiamo oggettivamente delle eccellenze ma anche dei baratri di arretratezza causati da resistenze, causati da anacronismi dovuti a cattive pratiche, all'applicazione di pessime abitudini e da competenze scientifiche che anche qui bisogna avere l'onestà e l'altura di dirsi che quasi mai sono all'altezza. Allora, il ruolo di questa agenzia dovrebbe essere quello di coordinare le attività a livello territoriale con gli enti locali, le scuole, le associazioni di categoria fondamentale, le associazioni di consumatori, eccetera. Allora, nella società di oggi fornire competenze, conoscenza a cittadini vuol dire renderli quello che dovrebbero essere, cittadini, cioè partecipi della società. Questa nuova fase che deve porre le basi per l'avvio di questa nuova stagione economica resiliente e una stagione economica anche ambiziosa deve renderli veramente cittadini. Fine ultimo dell'agenzia, quindi oltre a quello generale di favorire l'accrescimento delle competenze digitali e finanziarie dei cittadini, è quello collaterale ma fondamentale di sviluppare una reale cittadinanza digitale attiva e garantire a tutti il pieno godimento dei diritti fondamentali che competono a ciascuno. Se volete è la trasposizione di concetti che sono banalmente inseriti nei principi fondamentali della Costituzione nei primi 12 articoli e declinati nei primi quattro titoli della nostra Costituzione. Nel medio periodo il risultato che l'agenzia si potrebbe proporre di raggiungere è duplice. Innanzitutto promuovere l'inclusione sociale dei cittadini e poi favorire la competitività dei cittadini e del sistema Paese nel suo insieme cercando di riallineare, fatemi dire migliorare il livello di competenze degli italiani al ruolo che più si compete al nostro sistema economico e politico. Con queste basi ci siamo ritrovati oggi e ringrazio davvero di cuore tutti coloro che ci daranno non spunti ma l'effettiva realtà di quello che viviamo in tutti i più diversi campi e con questo spirito mi predispongo ad ascoltarvi ringraziandovi ancora per la vostra partecipazione per essere qui. Grazie a tutti. Grazie Presidente Moulet. Come ha detto il sottosegretario Butti era impossibilitato a venire e mi accingo a leggere il messaggio che ci ha inviato. Buonasera a tutti voi e grazie al collega onorevole Giorgio Moulet per l'invito al commegno il cammino dell'Italia verso l'alfabetizzazione digitale che purtroppo non riesco a onorare in prima persona a causa di impegni in agenda che non è stato possibile posticipare. Dite bene nel manifesto che annuncia questa iniziativa. È paradossale per una delle otto principali economie globali avere un livello così basso di competenze digitali, tale da collocarlo al diciottesimo posto su 27 Paesi dell'Unione Europea. Il nostro Paese sconta le conseguenze di un mix letale di deficit demografico, mancati investimenti nella formazione del personale della pubblica amministrazione e soprattutto politiche pubbliche timide o inefficaci nel contrastare questi problemi. Il Dipartimento per la trasformazione digitale, di cui ho la guida, ha messo le competenze digitali al centro della priorità di mandato. Al di là dei target che ci chiede il PNRR, sui quali siamo pienamente in linea, pensiamo che senza una popolazione digitalmente abile non possono esserci servizi digitali diffusi, tutele per i più fragili e sicurezza dei nostri dati. Oltre a portare avanti Repubblica Digitale il Piano Nazionale di formazione delle competenze digitali e collaborare all'avanzamento del servizio civile digitale, stiamo creando 3.000 punti di facilitazione digitale e aprendo sedi decentrate del Dipartimento su tutto il territorio. Portiamo il digitale sui territori, formando le competenze che occorrono a chiunque per interagire proficuamente e in sicurezza con la tecnologia. Vi ringrazio e vi auguro un profigo dibattito. Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale. Grazie. Allora passiamo la parola al Presidente Marco Snato, che è il Presidente della Sesta Commissione di Finanze della Camera dei Deputati. Grazie Presidente. Buongiorno, grazie mille per questo invito e per la possibilità appunto di affrontare un argomento che, come opportunamente è stato detto, diventa centrale nella vita quotidiana di uno di noi. Grazie mille anche per la qualità dei relatori e che vedo hanno portato molto interesse anche nel convegno di oggi. L'alfabetizzazione digitale è divenuta una priorità assoluta, dicevo, per ogni nazione che voglia essere competitiva e che voglia aumentare la propria prosperità e il proprio lavoro che sta facendo il Governo, si è citato il Senatore Butti, insomma, proprio per cercare di fare quella rivoluzione digitale, quello shock che il Presidente Mulè ha opportunamente definito come tale nel mondo del digitale. Bisogna però essere tutti d'accordo che non può essere solo ed esclusivamente un'iniziativa che deve partire dal pubblico, dal Governo, dalle istituzioni pubbliche, ma deve coinvolgere tutto il mondo produttivo privato, le istituzioni accademiche e la società civile. Quindi deve essere una condivisione di obiettivi. Su questo io mi permetto di riprendere un concetto che ha opportunamente detto il Presidente Mulè nel mio ruolo di Presidente della Commissione Finanze. È chiaro che questa scarsa alfabetizzazione digitale si coniuga con quella dal punto di vista finanziario. L'educazione finanziaria nel nostro Paese è ancora un miraggio nella sua completezza, nonostante se ne parli e qualcosa si stia facendo anche nei termini di programmi scolastici, grazie anche a una mozione unitaria di tutto il Parlamento è stato inserito in questi programmi. Certo bisogna ovviamente formare chi dovrà poi mettere in atto questa educazione finanziaria e soprattutto coinvolgere anche le associazioni e gli enti che se ne occupano proprio per avere una vera educazione finanziaria e non soltanto qualche parola d'ordine che poi rimane tale. La Banca d'Italia ci insegna che anche tra i giovani che dovrebbero essere quelli più formati dal punto di vista sia finanziario ma soprattutto digitale soltanto il 35% degli intervistati ha una vera e propria competenza adeguata agli standard moderni. Quindi immaginiamo tra coloro che magari hanno avuto meno occasioni di confrontarsi in questo mondo, in questo ambito, come si potrebbe abbassare la percentuale. La percentuale è ancora bassa anche tra chi è già inserito nel mondo del lavoro e quindi credo che da decisore pubblico, quale anche io sono, oltre all'elemento della competitività dobbiamo avere in mente anche il tema della democrazia digitale. Non possiamo creare differenze tra i cittadini a seconda se uno abbia avuto la fortuna o il merito di intraprendere maggiormente il mondo del digitale o il mondo del finanziario come dicevo prima rispetto ad altri che rimangono indietro. Ecco su questo non possiamo pensare che ciò rimanga un privilegio per pochi, su questo bisogna lavorare. Bisogna lavorare anche per, e questo sono sicuro che anche grazie al PNRR il Governo lo sta facendo bene, anche cercare di creare un sistema virtuoso di infrastrutture digitali. Ancora troppe aree della nostra nazione sono lontane da avere questi standard elevati e quindi su questo credo che il lavoro deve essere intenso e puntuale e anche piuttosto repentino. Quindi non si tratta solamente di conoscere gli strumenti digitali ma anche poi capirne il senso immanente della loro funzione, anche con un senso critico, capire quali sono le opportunità che sono tantissime ma conoscere anche quelli che possono essere i rischi che abbiamo visto anche in questi giorni ahimè dalle cronache, ovvero della violazione di alcuni diritti, della privacy, della sensibilità insomma rispetto ai temi che anche la digitalizzazione contiene. Quindi anche su questo c'è necessità di un'alleanza, di una collaborazione tra il Governo, le imprese e le istituzioni educative ripeto per far comprendere le enormi opportunità ma anche i puntuali rischi che si corre. Quindi è in questo senso che credo che anche grazie a autorevoli dibattiti come quelli che ascolteremo oggi si potrà anche comprendere come inserire oltre che ovviamente al dibattito ma anche le azioni migliorative rispetto a questo ambito nella vita quotidiana di tutti noi. Sicuramente come aveva detto prima delle scuole ma sicuramente recuperando un gap tra coloro che sono già inseriti nel mondo del lavoro sicuramente anche con sollecitazioni e idee che appunto possono pervenire al Parlamento e che possa farle proprie. Chiudo rispondendo alla simpatica battuta del Presidente Moulet sul fatto che come Presidente delle Commissione finanze potrei essere il finanziatore, per usare un brutto termine, di questo. Io ero venuto qui invece con l'idea opposta di prendere qualche soldo ma sono convinto che questa era la risposta alla battuta che ogni soldo investito nella digitalizzazione a lungo termine sarà un grande risparmio non solo per lo Stato ma per tutti noi. Grazie mille. Grazie Presidente Osnato. Grazie. Allora mi sembra che di spunti ce ne siano abbastanza. Allora mi posso presentare ma credo che essendo la diretta web ci presentiamo. Maurizio Pimpinella sono il Presidente della Fondazione Italia Digital Hub e sono il Presidente dell'Associazione dei prestatori servizi di pagamento della moneta elettronica in Italia e in Europa. Buongiorno, grazie. Adesso avrò il compito di fare da chairman e di introdurre questo importante pomeriggio di confronto. Grazie ai relatori ma grazie soprattutto alle esperienze che loro porteranno a questo momento di confronto e come ha detto il Presidente Monè è soltanto l'inizio. Ovviamente un ringraziamento al sottosegretario Butti per l'impegno giornaliero che in questo momento sta facendo sulle tematiche dell'intelligenza artificiale ed oltre ma vorrei nella veste oggi di chairman ritornare a raccordare tutti gli spunti che il digitale deve avere nei vari settori. quindi ritengo che il dibattito odierno sia di massima priorità in questo momento per il Paese visto che si parla tanto di tecnologie, di esperienze per il cittadino ma abbiamo sentito il Presidente che ne aveva una da gestire. Quindi avendo questi spunti di riflessione abbiamo da fare una prima considerazione che il digitale aiuta se lo conosci perché se no altrimenti finisci nei meandri dei rischi come abbiamo visto in questi giorni. però la sala che oggi ci ospita è un luogo solenne, un luogo istituzionale, ricco di storia, di tradizione. Ebbene quando mi capita di parlare spesso di innovazione, di digitale in luoghi simili non posso fare a meno di pensare al contrasto che alle prime mi viene in mente. Cioè parlare di intelligenza artificiale, parlare di digitale in una sala storica del seicento. In ultimo espressione della monarchia è abbastanza difficile. Tutto oggi sembrerebbe passato, anacronistico e in contrasto ma non è così. Luoghi come questo ricordano la nostra storia, le nostre radici, la nostra cultura. Tutte cose che dal digitale devono e possono essere esaltate, che possono essere trasmesse ai nostri turisti stranieri, possono essere condivise e fatte conoscere a tutti attraverso la tecnologia. Ciò che in un passato era ad appannaggio di pochi, attraverso le tecnologie e l'alfabetizzazione di cui parleremo oggi, devono diventare uno strumento di conoscenza e di inclusione comune, come ha detto il Presidente Mattarella nell'ultimo intervento sul valore del digitale. Ovviamente il digitale è conoscenza ed è il nuovo capitolo dell'alfabetizzazione digitale, come diceva il Presidente Moulet, però è una chiave di accesso. Ritengo che nel contesto attuale queste parole siano particolarmente significative, a testimonianza che la capacità di utilizzare le tecnologie digitali in modo efficace è diventata un requisito fondamentale per la partecipazione attiva nella società e nell'economia globalizzata. L'alfabetizzazione digitale e finanziaria infatti è cruciale per il progresso sociale ed economico del nostro Paese e, come diceva il Presidente Moulet, la Banca d'Italia in questi mesi ci ha munito varie volte a tal proposito, certificando anche le nostre competenze in questo ambito, che sono in miglioramento. Oggi tecnologia e finanza sono elementi strettamente legati e interconnessi non solo a tutto quello che facciamo come associazione, ma tutto quello che è il mondo reale. Competenze digitali e competenze finanziarie sono indissolubili. Influenzandosi a vicenda, come Nazione stiamo attraversando una fase di trasformazione accelerata, è vero, guidata dall'innovazione tecnologica, è vero, ma in questo contesto è essenziale che tutti i cittadini acquisiscono le competenze necessarie per affrontare, come diceva il Presidente Stato, in modo sicuro e consapevole il cambiamento. L'Italia, ma non è solo l'Italia, è un Paese fortemente caratterizzato dai cap, dalle distanze, talvolta anche dei veri e propri barati di differenza ed esclusione sociale, diceva il Presidente. Questo vale ad esempio nella disparità di genere, nella disparità dei salari, nella disparità in ambito sanitario, ma vale certamente nell'ambito delle competenze digitale degli italiani. Il sistema economico e competitivo italiano stesso, infatti, è parte di un gap, dicevamo, però siamo l'ottava potenza economica globale, nonostante siamo al diciottesimo posto nell'indice desi. Significativi però in questi mesi, parlando di intelligenza artificiale, si sta parlando di quanti posti di lavoro si possono perdere a causa della sua crescita. Ebbene, a tal proposito vorrei esprimere il mio pensiero. Innanzitutto, dalla metà dell'Ottocento in poi, i lavori e modelli di business si sono sempre avvicennati, vediamolo nella nostra vita quotidiana. Tanti ne sono spariti, ma tanti ne sono comparsi. Ciò che sta avvenendo ora è solo che questo passaggio è molto più rapido. L'intelligenza artificiale non deve né spaventare e né essere un ulteriore strumento di ampliamento del gap e delle disuguaglianze, di cui ho parlato molto spesso in questi giorni anche a tanti amici giornalisti. Invece è uno strumento al servizio dell'essere umano e di ciò che subentra il ruolo dell'affabetizzazione, per cui dobbiamo impegnare e formare meglio e di più le persone e governare macchine e non instillare loro il dubbio di essere sostituiti. Quindi è soltanto un problema di conoscenza. Lato aziendale, il Presidente Molai parlava di quello che è il digital gap sulle piccole e medie imprese. Sicuramente l'adazione dell'intelligenza artificiale non è in dubbio. È ormai un'esigenza per rimanere competitivi nei confronti delle aziende estere che già ne fanno ricorso. Oggi, attraverso questo commegno, abbiamo l'opportunità di condividere con gli illustri relatori esperienze e best practice al fine di tracciare un percorso chiaro e ambizioso per l'alfabetizzazione digitale e finanziaria in Italia. Sono certo che insieme possiamo realizzare progressi significativi e costruire un futuro milioni per i cittadini e per le imprese. In Italia possiamo e dobbiamo fare tanto per migliorare, è vero, la digitalizzazione nel nostro Paese. Ma va ricordato che a livello europeo bisogna operare però un cambio di mentalità. Ed è importante perciò avvenga l'Europa non può essere soltanto il legislatore del mondo. Perché normare ogni cosa e freggiarsi del titolo di essere stati il primo a farlo, come ad esempio sull'intelligenza artificiale e non solo. Ma è importante, ma è anche limitante se a questo non si dà seguito a politiche espansive e a progetti che pongano le condizioni essenziali per la nascita e lo sviluppo di imprese e di start-up innovativa grazie all'alfabetizzazione digitale. Questo passaggio, o per meglio dire, cambio di mentalità non sarà facile. Per stimolare la digitalizzazione e l'innovazione sarà necessario un più stretto coordinamento intersettoriale, capace di coinvolgere tutti i soggetti che fanno parte della filiera dell'innovazione. Il tutto proprio mentre l'Europa cerca di rafforzare la propria resilienza alle perturbazioni future e a creare un terreno più fertile alla nascita di over-the-top autoctoni. Ciò che fino a questo momento ancora non è avvenuto in Italia. Tutti i giorni parliamo di intelligenza artificiale, di sistemi di pagamento, di processi, ma ricordiamoci che le tecnologie ancora ad oggi non sono in mano a soggetti ed imprese italiane. Tanto è stato fatto. Quindi prima di lasciare la parola agli illustri relatori avrei deciso di condividere questi passaggi per meglio affrontare le tematiche che poi i colleghi inizieranno a condividere con noi. Grazie. Allora abbiamo diviso diciamo le sessioni in tre momenti di confronto. Quindi nel primo panel parleremo del cammino dell'alfabetizzazione da parte della pubblica amministrazione e delle associazioni come driver per i cittadini. E darei la parola a Dottor Nobile che è il direttore generale dell'Agid. Grazie Dottore per la sua presenza. Grazie mille. Grazie, grazie per l'invito. Saluto il Presidente Mulele, autorità presenti, le signore e i signori in sala. Ma io conoscendo i tempi draconiani della Camera rispetto agli interventi parto dalle conclusioni che sono due. Ho ascoltato con molta attenzione gli interventi del Presidente Mulele, del Presidente della Commissione. Sicuramente l'idea di un'agenzia e soprattutto di una collaborazione pubblico privato è un'idea secondo me vincente. Seconda conclusione, dobbiamo a mio parere distinguere ciò che è la formazione da ciò che è l'addestramento all'uso. Adesso cerco in qualche minuto, in un paio di minuti, di motivare le mie due considerazioni. La prima, lo avete già detto, c'è un tema di velocità, c'è un tema di nuovi strumenti. Perché la collaborazione pubblico privato è vincente? Perché vi do solo due numeri per non annoiarvi. gli SPID, il sistema pubblico di identità digitale, a dicembre 2020, già dopo la pandemia, erano 15 milioni. A dicembre 2023 sono diventati poco più di 37 milioni. È un sistema che, come sapete, confluirà in un'identità nazionale digitale unica basata sulla carta di identità elettronica e sul wallet, ma su questo non tolgo argomenti ai colleghi che parleranno dopo. Ma ad oggi questo sistema è pervasivo nella società italiana. Perché collaborazione pubblico privato? Perché guardo l'amico Mirko Mischiatti di Poste che ha una buona fetta come identity provider di SPID dei nostri concittadini e il loro interesse evitare che ci siano abusi o rischi. Perché la persona che ha lo SPID di Poste tendenzialmente ha anche altri servizi e il fatto di rischiare su quel fronte indebolisce un operatore economico come Poste. Allora, la collaborazione pubblico privato è importante perché non faccio nomi e non cito marchi commerciali, ma esistono molte esperienze che noi abbiamo dove entriamo in un negozio, magari non dobbiamo comprare un apparato, ma ci vogliamo far spiegare un certo funzionamento. Con molta gentilezza ci spostano dal luogo dove devono vendere, perché il primo obiettivo di quelle strutture è vendere, e ci accompagnano in un percorso di formazione o di apprendimento. Perché è un win-win, dicono quelli bravi, è una doppia vittoria se le competenze diventano sempre più pervasive. Allora, questa agenzia che ho ascoltato con molto interesse, che avrebbe un ruolo e un obiettivo molto alto, può essere impostata, sto facendo un ragionamento per assurdo chiaramente, può essere impostata con le dinamiche normali di formazione e di azione soltanto pubblica? Sì, ma atterrerà l'aereo tra cento anni. La seconda considerazione, che è ancora più difficile, perché le cose, credetemi, stanno davvero cambiando. Io pensavo di aver visto una buona parte del machine learning, ma devo dire che negli ultimi due anni ho cambiato radicalmente le mie percezioni tecnologiche. Noi vogliamo formare tutti sulle questioni mediche, anche qui faccio un'altra allegoria, tolti i medici in sala. Noi abbiamo esattamente conoscenza di quelli che sono i fenomeni medici relativi al nostro organismo, al nostro essere umani? Evidentemente no, ripeto, tolti i medici. Però sappiamo, siamo addestrati a riconoscere una tabella informativa, dei numeri rispetto ai grassi, ad avere una certa percezione rispetto al nostro stato di salute, per poi andare da un professionista nel momento in cui abbiamo percezione che qualcosa non stia andando per il verso giusto. Allora, l'errore che dobbiamo evitare, e in parte anche nostro, mi metto anch'io nel banco dei responsabili, perché abbiamo cercato di illustrare le alte strategie del piano triennale che hanno riguardato Pago.pia, i pagamenti, i PSP, le identità digitali, cercando di spiegare a tutti tutto. È una possibilità, ma anche qui l'aereo atterra tra 100 anni. Allora, non voglio semplificare e lancio una provocazione anche ai colleghi, ma la vera chiave, vista la velocità in gioco anche sull'intelligenza artificiale, è capire il discrimine tra competenze di base che ci fanno chiamare il medico e competenze approfondite, perché è vero quello che diceva Maurizio, ricordo anche il messaggio di Papa Francesco, non deve essere una tecnologia per pochi. E questo ha delle implicazioni politiche che non mi permetto di tratteggiare. Grazie. Grazie, grazie Mario. Dottor Zoro è amministratore legato del Poligrafico, mi sembra Francesco si è stato tirato subito in mano. Da sempre il Poligrafico è un centro di sviluppo, di innovazione per il sistema imprese e per i cittadini. Quali sono i prossimi passi? Grazie, grazie Maurizio, grazie Presidente, grazie al Presidente Orsato e saluto tutti quanti gli ospiti. E come raccontava Mario Nobile è un lavoro da fare insieme. Io abbiamo qui in prima fila il Presidente Guzzilla di Federmanager con cui in queste settimane, in questi mesi ci siamo visti più volte per parlare di come l'alfabetizzazione debba riguardare non solo i cittadini ma anche e soprattutto i manager nell'ambito delle nostre aziende perché il mondo va molto veloce e sono le stesse aziende ad avere spesso bisogno di essere alfabetizzate. Il caso del Poligrafico è un caso da questo punto di vista semplice e chiaro. È un'azienda che ha basato tutta la sua storia sull'elemento fisico, se pensate che è l'erede della Zecca di Roma. Quindi risaliamo all'Avanti Cristo e oggi si ritrova insieme all'amico Morica di Pagopia a dover realizzare il wallet che conterrà l'identità digitale degli italiani. E quindi è chiaro come anche le aziende debbano passare attraverso questo percorso e in questa prospettiva la collaborazione, ora io ho l'esempio di Federmanager con cui stiamo lavorando passo passo ma l'esempio dell'agenzia può essere altrettanto, oltre che un regolatore come l'agenzia, come l'Agid, è un qualcosa che consente a tutti quanti noi, a tutto l'ecosistema delle società pubbliche di andare nella stessa direzione. L'esempio ripeto del Poligrafico è importante perché oggi diciamo quando qualcuno pensa al Poligrafico della Zecca dello Stato immediatamente immagina alle banconote e le monete. In realtà la trasformazione che il Poligrafico sta vivendo è una trasformazione che in ognuno dei suoi settori di business sta diventando digitale. Pensate appunto alle monete e alle banconote e non sfugge a nessuno che il futuro dei pagamenti è sempre più elettronico al punto tale che la BCE sta investendo sull'euro digitale. A proposito con Pagopia stiamo partecipando insieme a un tender della BCE per i primi sviluppi dell'euro digitale. Per quello che riguarda che oggi sono il nostro business principale, quindi documenti di identità, immaginate i passaporti, la patente, la carta di identità, il permesso di soggiorno elettronico, dove custodita l'identità digitale degli italiani, noi insieme a Pagopia andremo a realizzare per conto del sottosegretario Butti che sta dando un grandissimo impulso alla digitalizzazione del Paese, il wallet che la Crusca ci ha bacchettato, che tutti chiamiamo wallet, dovremmo chiamare portafoglio digitale, ma è effettivamente il portafoglio dell'identità digitale degli italiani. Stiamo correndo, il sottosegretario Butti ci dà tempi molto serrati, ma oggettivamente siamo in linea e incredibilmente il Paese sembra essere avanzato rispetto a tanti altri competitor europei da questo punto di vista. E se ci spostiamo al settore dell'anticontraffazione e ancora una volta comprendiamo quanto la digitalizzazione sia stata e sarà importante, pensate che per una direttiva del 2011, poi diventata regolamento europeo nel 2016, quelli che sono i bollini farmaceutici, oggi elementi fisici che troviamo sulle scatole medicinali, un domani saranno tracciati solamente in modo digitale. Il Poligrafico ha il compito di realizzare la piattaforma che garantirà anche nel futuro i cittadini italiani da ogni ipotesi di contraffazione dei farmaci. E chiudo con la parte normativa e poi rispetto ai tempi promessi, voi ricorderete che se stampiamo la gazzetta ufficiale, ora diventata anche digitale, che siamo i titolari del portale normativa insieme al Dipartimento Affari Giudici e Legislative della Presidenza del Consiglio. Ecco, con loro stiamo sperimentando e siamo, devo dire, abbastanza avanti l'intelligenza artificiale in ambito normativo, l'ho detto qualche giorno fa durante il pre-G7 sull'intelligenza artificiale e questa sede è la migliore per raccontare a che punto siamo. Insieme al Dipartimento delle Riforme Istituzionali del Ministro Casellati abbiamo già immaginato una prima fase ricognitiva e quindi a individuazione e classificazione delle norme, una seconda fase già in corso che riguarda la semplificazione delle norme e quindi individuare le norme ridondanti, insomma in un paese come il nostro dove la superfetazione normativa è quasi la norma, l'intelligenza artificiale può dare una mano, tranquillizzo a tal proposito anche i presenti, nel senso che comunque c'è ancora tanto bisogno dell'uomo e del giurista e i prossimi passi sono ancora più sfidanti perché l'intelligenza artificiale può essere utilizzata nel momento della creazione della norma e in un secondo momento per valutare preventivamente gli impatti della norma economici sociali. A maggior ragione l'agenzia è un ente che si occupi della digitalizzazione come sua ragione di vita, quindi si alza la mattina, si occupa di digitalizzare gli italiani, chiude la sera e ha digitalizzato gli italiani insieme al lavoro che possono fare gli altri corpi intermedi sul management. Io penso che questa sia la sfida del prossimo futuro e che chiama tutti quanti noi che siamo a questo tavolo e vedo mischiati anche poste italiane che con noi si accinge a fare una bellissima avventura insieme nei prossimi mesi e a lavorare tutti quanti insieme per fare in modo che l'Italia possa continuare a essere veloce, laddove sta incredibilmente dimostrando essere veloce e accelerare dove invece ancora un pochino in ritardo. Grazie Francesco, grazie Alessandro Moricca, amministratore delegato di Pagopià, è stato chiamato direttamente in causa. Siamo in un mondo molto più vicino al mio, siamo nel mondo dei pagamenti. Ma non solo. Prego. In realtà il Presidente Moulet prima parlava dell'indice desi e quindi ha cercato di deprimerci un pochetto sul diciottesimo posto nella classifica europea. In realtà nello stesso ambito, gli stessi studi mostrano un altro indice, quello della progettualità all'interno dell'Europa e si scopre che l'Italia nella progettualità nei primissimi posti, tra il primo e il secondo posto, forse è quello che ci manca un po' la messa a terra di tutti i progetti che riusciamo a realizzare. In quest'ambito direi che Pagopià un esempio invece di situazione nelle quali questa messa a terra è riuscita. Noi ci occupiamo delle piattaforme, tutte le infrastrutture che rendano accessibile i servizi digitali al cittadino e tutte le nostre piattaforme costituiscono insieme un ecosistema e noi le immaginiamo assolutamente unite. Queste sono Pagopià, la piattaforma Pagopià dei pagamenti che l'anno scorso ha fatto 387 milioni di transazioni per un controvalore di 83 miliardi di euro, quindi il 4% del PIL. Abbiamo l'Appio che è quella, l'applicazione che andrà a contenere il portafoglio digitale, per parlare bene, che già oggi è il canale telematico di accesso alla pubblica amministrazione per il cittadino sulla quale sono presenti circa 295 mila servizi forniti da 16 mila amministrazioni. Abbiamo la piattaforma SEND che è la piattaforma per le notifiche digitali che abbiamo lanciato alla metà del 2023 che è ancora in una fase di start up ma sta andando avanti e abbiamo anche la piattaforma del welfare che permette l'erogazione di incentivi, di bonus al cittadino tramite l'utilizzo anche qui dell'Appio che avevo menzionato prima. Ora per fare tutto questo è chiaro che ci sono due ambiti fondamentali, quello delle amministrazioni e quello del cittadino. Per le amministrazioni quello che è stato il principale problema che noi abbiamo visto è quello di riuscire a raggiungere tutte le amministrazioni che sono circa 20 mila e quindi è un numero molto significativo e ci siamo resi conto che un approccio top down non è quello che riesce a portare successo. Quindi da questo punto di vista ci siamo mossi in vari modi. Il primo è quello di creare infrastrutture che siano facilmente implementabili dalle amministrazioni e quindi dove l'integrazione sia la più semplice possibile. Abbiamo supportato gli enti per la gestione dei fondi, in particolare quelli del PNRR. Abbiamo messo a disposizione una rete commerciale, noi la chiamiamo rete commerciale ma è un commerciale tra virgolette perché in realtà non è che andiamo a vendere i prodotti alle amministrazioni ma aiutiamo le amministrazioni a definire quali sono le loro esigenze per riuscire ad implementare quelle che sono più appropriate appunto per le amministrazioni. Infine promuoviamo un rapporto costante e strutturato con le amministrazioni e questo anche tramite attività di promozione, toolkit e attività del genere. Quindi diciamo che è un'attività che di sicuro non possiamo concentrare sul pensare, cioè non possiamo pensare che per implementare il digitale basta dire che lo implementiamo e finisce lì. Se non si segue lo sviluppo non ci si riesce. Di sicuro un ambito molto importante per l'implementazione è quello di fare presente alle amministrazioni dei risparmi e qui mi ricollego al Presidente Osnato che le amministrazioni possono avere perché in realtà con l'implementazione di questi strumenti risparmiano risorse e possono investire le loro risorse su altre attività o nel caso in cui ci sia una carenza di risorse che possono riuscire ad assorbirla. Quindi sono aspetti che di sicuro da questo punto di vista sono molto importanti. Lato cittadino diciamo che ci sono varie cose, vari aspetti che vanno considerati. Io mi concentro velocemente solo su tre. Il primo è il primo che si parlava prima del fatto che il digitale non può essere per pochi. Dobbiamo renderci conto che il digitale però non è neppure per tutti. C'è una questione di digital divide che dobbiamo sempre andare a considerare e quindi dobbiamo rendere i servizi disponibili anche alle persone che non sono digitali. E' chiaro che non sarà questo con l'appio perché sembra uno strumento prettamente digitale non riusciremo a raggiungere l'obiettivo. Ma nel momento in cui riusciamo a convertire al digitale il più cittadini possibile è chiaro che avremo un risparmio e avremo anche tutte le strutture a disposizione del servizio al pubblico normale che avranno più risorse per aiutare coloro che non sono digitali. Quindi in realtà il digitale può essere assolutamente un volano per portare avanti anche coloro che digitali non sono e non hanno intenzione di esserlo. Questo non vuol dire chiaramente che non dobbiamo cercare di portare avanti il digitale su tutti ma dobbiamo anche renderci conto che non sarà mai per tutti. E' chiaro che questo quindi il fatto di agevolare anche i servizi per il non digitale vuol dire ridurre le diseguaglianze e dare un servizio molto più equilibrato a tutta la popolazione. Grazie Alessandro. Grazie ma soprattutto per l'ultimo spunto e tu dicevi eliminare le diseguaglianze perché poi ricordiamoci che quando le persone anziane gli parli di queste cose devono comunque avere delle capacità per caricare una carta di identità, una patente su un'applicazione. Diciamo grazie a questo lavoro di sensibilizzazione che poi vedremo anche con le associazioni di categoria arriveremo sui territori con un programma di formazione adeguato. Perché poi parlando di tecnologia dobbiamo parlare strettamente di rischi collegati. Avete visto l'altro giorno che c'è stato un furto di credito fiscale su alcune imprese al sud ma non perché erano al sud perché ovviamente c'erano delle procedure che hanno consentito di bucare il sistema. E ovviamente lasciando la parola al dottor Baldoni che è il direttore della digitalizzazione del Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti Francesco l'altro giorno facevamo una riflessione a pranzo. In un momento in cui c'è un mondo interconnesso sul mondo dei trasporti il mondo dei trasporti è strettamente collegato ad app, è strettamente collegato al mondo dei pagamenti a tutto quello che ne consegue in città sempre più interconnessi e smart ma il mondo della gestione dei dati e dei rischi ad essi connessi. Qual è il tuo punto di vista su questa operatività anche da un osservatorio privilegiato del Ministero? Allora la domanda è molto interessante il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è impegnato in uno sforzo continuo di aggiornamento della propria strategia in ottica di innovazione e di integrazione digitale Il MIT con la recente riorganizzazione ministeriale ha prestato una grande attenzione alla digitalizzazione e al progresso digitale, testimoniata proprio dall'istituzione della Direzione Generale per la Digitalizzazione La Direzione ha come primi obiettivi la trasformazione digitale, la riorganizzazione dei processi la promozione dei principi dell'amministrazione digitale e degli open data e la definizione degli indirizzi per la digitalizzazione, la promozione dell'innovazione digitale in coerenza con le linee strategiche dell'agenda digitale in raccordo con i dipartimenti e con le strutture di diretta collaborazione del Ministro In seno alla Direzione è incardinata una struttura che è quotidianamente chiamata a trattare questioni attinenti al progresso digitale, alle sperimentazioni scientifiche, alle innovazioni tecnologiche sia nel campo dell'automotive che delle infrastrutture viarie L'osservatorio Smart Road, di cui Mario è stato past president, è per l'appunto una struttura istituzionale istituzionalmente creata per dare risposte digitali, concrete e attuali a necessità di progresso e di adeguamento tecnologico La guida automatica, piuttosto che sistemi digitali di Smart Road, consentiranno al Paese Italia di raggiungere un importantissimo traguardo in ottica di trasformazione digitale Ma l'attenzione del MIT dell'osservatorio al mondo della digitalizzazione dei trasporti non si basa solo sulla guida digitale automatica e connessa Un ruolo fondamentale lo riveste anche la digitalizzazione delle infrastrutture viarie attraverso sistemi di Smart Road e Smart City Rendere le nostre città sempre più connesse con i veicoli Consentire che la strada dialoghi con il veicolo vuol dire offrire alla pubblica utenza un servizio di inestimabile valore un alto livello di sicurezza stradale Un veicolo che già sa cosa c'è dietro la curva vuol dire evitare tamponamenti Un semaforo che avverte il veicolo di approssimarsi del segnale rosso vuol dire evitare investimenti di pedoni Attraversamenti pedonali che avvertono il conducente del veicolo della presenza di un pedone vuol dire rendere le nostre state più vivibili Il MIT riveste un ruolo cardine anche nel processo di digitalizzazione dei contratti pubblici in quanto esplica la funzione istituzionale di regolazione dei contratti Come sappiamo lo scorso 31 dicembre è stato raggiunto il traguardo della piena operatività del sistema nazionale di e-procurement con la digitalizzazione dei contratti pubblici Il MIT nella consapevolezza della complessità che il processo di digitalizzazione implica in termini tecnici, giuridici e procedurali ha istituito un gruppo di lavoro permanente con la partecipazione dei rappresentanti di ANAC, di AGID del segretariato generale della presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura di missione del PNRR e del dipartimento della trasformazione digitale di Consip, di Invitalia, dei soggetti aggregatori nonché di Itaga che accompagna indirizzi di questa importante innovazione favorendo l'attività delle stazioni appaltanti e derup Si tratta, prendendo le parole di Mario Nobile, di accompagnare le stazioni appaltanti e erup nel utilizzo, quindi una piattaforma di formazione avanzata che accompagni queste stazioni appaltanti nell'utilizzo delle piattaforme di procurement quindi una formazione specializzata il gruppo di lavoro, quali osservatorio privilegiato da coinvolgere potrà offrire supporto sulle questioni attinenti il processo di digitalizzazione in questione e in questa delicata fase sarà partecipe anche delle attività legate alla progettazione, all'avvio e all'evoluzione in corso d'opera delle attività necessarie per il conseguimento di obiettivi previsti da misura 75 M1C175B e PNRR approvata per sostenere le stazioni appaltanti rispetto alle sfide della qualificazione e della digitalizzazione dei contratti pubblici che prevede di veicolare in modalità digitale attività di comunicazione, attività formative e di aggiornamento dei contratti pubblici con aspetti specifici di professionalizzazione il monitoraggio delle infrastrutture riveste un ruolo strategico all'interno del MIT attraverso l'utilizzo dei big data, dati aperti e interoperabilità è possibile migliorare la gestione e la potenzione delle opere pubbliche garantendo maggiore sicurezza e efficienza per questo è stato istituito presso il MIT l'archivio informatico delle opere pubbliche line-op basato sulla interoperabilità delle varie amministrazioni che detengono e gestiscono i dati referiti a un'opera e all'esecuzione dei lavori sulla stessa in base ai dati forniti line-op genera un codice identificativo della singola opera che racconta tutto di essa inoltre MIT promuove e gestisce il portale Open Cantieri che offre informazioni aperte e aggiornate sul processo di realizzazione delle opere pubbliche questo progetto integra i dati provenienti da fonte pubbliche in un'unica piattaforma fornendo una visione completa del processo di costruzione e manutenzione attualmente sono monitorate 112 opere e 358 progetti per un totale di 131 miliardi di euro inoltre in ambito Big Data Open Data il MIT ha realizzato il portiale Open Trasporti che costituisce una soluzione per l'esposizione dei dati relativi alla mobilità ancora in ambito Big Data il MIT pubblica trimestralmente l'osservatorio sulle tendenze della mobilità di passeggeri e merci il cui primo capitolo è relativo alle abitudini di mobilità degli italiani realizzato attraverso l'uso dei Big Data telefonici in conclusione il MIT con i propri progetti attraverso uno sforzo coordinato e sinergico sta gettando le basi per la realizzazione di città più smart di sistemi interconnessi e servizi di mobilità che rispondono in modo efficiente e sostenibile alle esigenze dei cittadini di tutti gli stakeholder interessati naturalmente il MIT è anche particolarmente preoccupato della parte di sicurezza che tu hai citato e quindi sta investendo nella costruzione dell'OxIRT e dei SOC quindi computer security incident response team dei security operation center Grazie, grazie Francesco ma grazie per averci dato delle informazioni importanti e strategiche che poi riprenderemo nel tavolo delle imprese tu hai parlato di interoperabilità dei dati hai parlato di un data lake hai parlato di open data hai parlato di tutti quei dati che un ministero mette a fattore comune dal punto di vista istituzionale ma poi vedremo poi nel terzo panel come questi dati diventano valore per il cittadino allora grazie noi come vedete abbiamo tempi digitali quindi acceleriamo passiamo al secondo panel grazie, grazie grazie ai relatori chiederei al presidente Guzzilla al presidente Deiana al presidente De Masi al presidente di Fed and Benerge al presidente di Confassociazioni grazie al presidente De Masi dell'Associazione dei Consumatori l'avvocato Minieri prego al presidente di Fida credo che con tutti loro abbiamo un trascorso sia aziendale che di associazione perché ovviamente ricopro lo stesso loro cappello col presidente Guzzilla abbiamo iniziato da tempo a formare manager in tanti ambiti col presidente Deiana stiamo per accelerare in un processo di alfabetizzazione delle piccole e medie imprese e con il presidente De Masi a giorni firmeremo un accordo con l'associazione consumatori proprio per arrivare sui territori giovedì in senato mi sembra presenteremo l'accordo che la fondazione avrà con Confassociazione per supportare le 2000 imprese per l'alfabetizzazione e con l'avvocato Minieri stiamo andando avanti per tutto quello che è un processo di alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale avvocato a lei la parola la prima vuole che sto da qui sempre prima le donne allora io come diceva appunto il dottor Pimpinella sono la presidente della Midacademy intelligenza artificiale Midacademy nasce nel 2018 da un gruppo di medici e giuristi che appunto iniziamo a capire dell'intelligenza artificiale e ci occupiamo di interfacciarci anche con l'autorità politica infatti Midacademy nota come l'Europa negli ultimi anni si è concentrata sull'agenda digitale infatti abbiamo il periodo 2020 e 2003 dell'agenda digitale affrontando i cambiamenti dell'area dell'intelligenza artificiale e ha dato priorità alla creazione di spazi digitali sicuri alla garanzia di una concorrenza leale sui mercati digitali e al rafforzamento della sovranità digitale dell'Europa e ha puntato sulla sanità digitale in particolare tutti noi conosciamo il White Piper il White Piper dell'Europa puntava a una visione di futuro per la sanità digitale e ha puntato e ha finanziato tanti soldi ma in particolare ha dato dei punti sul White Piper che è che la formazione in effetti valorizzare l'innovazione tecnologica risolvere sfide normative di privacy promuovere interoperabilità e standard di gestazione e facilitare l'accesso alla formazione infatti nel PNRR e soprattutto la missione 6 nell'ambito della sanità parla di formazione perché se non c'è formazione non ci può essere digitalizzazione che cosa fa la Mida nel 2020 fa il primo symposium il primo symposium dei GM 20 21 cioè il 18 dicembre 2020 in collegamento con l'ex governo Draghi questo gruppo di grandi eventi della medicina e del diritto si interfaccia direttamente con i parlamentari di quel periodo e il governo e crea appunto un documento programmatico e aiuta fondamentalmente il governo a dare dei punti di forza sul PNRR soprattutto nella digitalizzazione che cosa fa ha dato dei suggerimenti importanti perché qual è in pratica lo scopo della Mida è quella di creare una task force come dicevate prima dalla base per chi è che vive quotidianamente le sue giornate e quindi in questo caso i medici può dare dei suggerimenti e quindi questi grandi medici hanno dato una grande lume diciamo al PNRR per fare la programmazione che cosa dicono i nostri medici che fanno parte della Mida e che hanno creato un osservatorio sull'intelligenza artificiale fondamentalmente loro si occupano sappiamo nella sanità del fascicolo digitale della della robotica la medicina machine learning ogni giorno è quotidiana oggi l'algoritmo l'algoritmo che ora sta entrando anche nel diritto però ancora molto lontano invece nella medicina ha dato molti risultati però ci sono dei limiti abbiamo visto ci sono dei limiti perché ci sono dei rischi nella privacy noi abbiamo una legge sulla privacy oggi come oggi nella digitalizzazione è molto vetusta abbiamo dei rischi anche per quello che riguarda oltre che la privacy la responsabilità perché l'uomo non dobbiamo dimenticare una cosa io insegno all'università e all'università dico sempre non dimenticate l'intelligenza artificiale non è che abbandonerà l'uomo è l'uomo che si deve servire dell'intelligenza artificiale come utilità e quindi questo non lo dobbiamo mai dimenticare altrimenti si enfatizza questa parola l'intelligenza artificiale e noi abbiamo quindi un'aromativa molto vetusta allora quello che ci dice l'Europa è quella di sorpassare queste leggi di superare queste leggi e di informatizzare tutti e quindi noi abbiamo chiesto ausilio ai nostri medici proprio per questo i nostri giovani dell'osservatorio ultimamente hanno portato avanti un progetto molto interessante si chiama l'app intelligence ability questi medici insieme a degli informatici sono giovanissimi dei giuristi hanno pensato di superare anche la disabilità del mondo appunto disabile e quindi che cosa farà fondamentalmente stanno costruendo il collegamento attraverso quest'app del consenso informatico digitale per i disabili che lo possono fare direttamente con cioè in pratica una carta di identità vorrei spiegare meglio una carta di identità digitale del paziente che si collega poi direttamente con il medico di base e la ASLE è un progetto importantissimo però anche qui i nostri giovani hanno visto che ci sono dei limiti e quindi stanno sviluppando insieme medici e giuristi come superare il problema della privacy perché anche là sono dei dati sensibili quindi Mida oggi come oggi sta cercando di dare un ausilio un ausilio anche studiando quello che il codice deontologico e digitale dell'intelligenza etico perché non dobbiamo dimenticare che l'etica è la prima cosa da seguire grazie grazie però di aver dato il mio piccolo contributo no grazie perché quando si parla di ovviamente intelligenza artificiale di dati sanitari e poi si entra nella parte normativa della privacy si entra in un mondo in un ginebraio un po' complicato quindi tutti questi ecosistemi devono condividere in un contesto normativo europeo senza però ricordarci che deve avere un leve plain field normativo regolamentare altrimenti c'è qualcuno che va avanti qualcuno che recepisce le norme in maniera più diciamo aggressiva e quindi poi questi progetti va bene la fantasia dei giovani poi bisogna calarli a terra quindi alfabetizzazione a 360 gradi presidente i manager cosa hanno bisogno in questo momento cosa sta facendo il federal manager intanto grazie devo dire che appuntamenti come questi sono importanti grazie professor Pimpinella grazie presidente Mule devo dire che siete riusciti a radunare il gota dei manager italiani devo dire e non è per scontato devo dire che stiamo vivendo un momento positivo perché abbiamo sentito prima l'amico Francesco Soro che ha dato una sterzata sta facendo volare il poligrafico cioè veramente prima non è uno scambio di ringraziamenti ma è proprio vedere che i manager italiani stanno lavorando Mischiatti ha creato l'informatica sulle poste ho sentito prima dei colleghi di Leonardo ho sentito dei colleghi dell'Enab devo dire abbiamo oggi una classe manageriale veramente in gamba su questo sentivo prima il presidente Lagit che ha fatto una distinzione fondamentale su due concetti oggi quello che per noi è fondamentale è la formazione noi abbiamo bisogno di formare e informare le persone perciò io poi invito tutti oggi questa è una sede diciamo che serviva per partire però noi abbiamo tutti gli enti bilaterali per la formazione finanziata abbiamo bisogno di di far capire alle nostre persone l'importanza i manager che cosa stiamo facendo su questo noi su questo stiamo facendo un piano molto forte stanno cambiando tutti i modelli di business e qui la differenza la fa quello che ha detto prima il presidente Moulet nell'introduzione cioè le grandi aziende italiane sono leader cioè noi abbiamo tutti i manager le prime linee che sono persone che possono insegnare questo il problema ce l'abbiamo con il 90% delle piccole e medie imprese e che muovono l'80% della forza lavoro in Italia però nemmeno possiamo chiedere in un paese così burocratizzato di chiedere alle piccole e medie imprese di poter adempiere a tutto quello che c'è perciò diciamo anche le istituzioni su questo devono cercare di aiutare abbiamo fatto un voucher sull'innovazione digitale vanno fatte anche degli aiuti che molte volte possono essere anche un inserimento perché tante aziende di questo vanno managerializzate avete toccato anche un altro tema cerco di dire anche cose che ho colto oggi poi avremo modo di parlare di altre cose io penso che questa può essere un'opportunità un'opportunità importante per un paese che sta come ha detto il presidente Mulè sotto il 5 ed è stato gentile su questo noi abbiamo bisogno anche su questo di cogliere i punti fondamentali noi possiamo anche riportare con la parte digitale e l'intelligenza artificiale anche a recuperare quelle donne che in questo momento non stanno lavorando noi abbiamo bisogno di riportare le donne al lavoro abbiamo bisogno di riportare le donne allo stesso stipendo degli uomini io poi qui potrei aprire una polemica grossa perché noi abbiamo tantissimi problemi anche con i manager di Stato qui ci preoccupiamo sempre della fuga dei cervelli io mi preoccupo della fuga di quelli normali cioè noi abbiamo tanti manager nostri che onestamente a differenza dei paesi europei sono poco pagati qui c'è un problema di retribuzione noi abbiamo le migliori risorse nostre che sono noi la fortuna che abbiamo è che la gente si attacca all'azienda alla voglia ma noi rischiamo grosso perché le migliori competenze che noi abbiamo anche nei giovani stanno andando fuori e non possiamo permettercelo questo ciò dobbiamo cercare di fare un piano d'attrazione le persone che ho sentito prima stanno in posti importanti ma la competizione europea o equiparata alle stelle prendono quattro volte lo stesso stipendio loro noi per fortuna abbiamo le persone che amano dove stanno però devo dire che questo inizia ad essere un problema e questo in un paese che deve fare una trasformazione importante specialmente con l'intelligenza artificiale con l'intelligenza artificiale ci sarà un cambio di paradigma un nuovo modo di lavorare e se noi non facciamo un vero programma di politiche attive di lavoro oggi di riconversione di reskilling delle persone rischiamo grosso se lo facciamo noi possiamo cogliere delle opportunità importanti ciò si investire in infrastrutture però il primo capitolo del PNRR ha 40 miliardi sulla parte digitale e altre voci però è chiaro che noi dobbiamo fare un piano un piano a livello di paese sistema paese di formazione formazione della popolazione e formazione della nostra forza lavoro se noi facciamo questo noi possiamo risalire perché noi abbiamo il materiale umano per vincere sfide questo paese non c'è materie prime non c'è estensione territoriale non c'è numero di abitanti ma le nostre persone e la classe manageriale ce le invitano in tutti i posti dobbiamo cercare in questo momento di chiamarla a raccolta chiedere le sfide chiaro che paghiamo un prezzo molto caro dopo una tempesta perfetta e che ancora continua guerre pandemie crisi di approvvigionamento crisi energetica non è stato un momento facile e non sarà un momento facile ciò ci dobbiamo preparare le istituzioni attente e io dico Presidente Monec che su questo ha voluto dare un là è importante in questo momento per il paese passaggi fondamentali di sensibilità sulle persone le persone hanno bisogno in questo momento di sentire vicino le istituzioni lo stesso le imprese noi dobbiamo vincere e possiamo vincere la sfida europea la sfida mondiale se portiamo competitività e formazione all'interno della nostra azienda la parte digitale sarà fondamentale ma questa la lasciamo a te Pimpinella so che ti piace grazie grazie Stefano Presidente Deiana si è parlato di piccole e medie imprese si è parlato di supporto molto spesso anche questi voucher sono difficili per delle aziende che non hanno queste competenze ad accedervi cosa state facendo voi come confassociazione oltre 2.000 imprese associate quindi diciamo 213.000 scusami 213.000 e tanta roba come si dice prego grazie grazie Presidente Pimpinella grazie al Presidente Moulet è chiaro che siamo in un mondo in grandissima trasformazione io proverò a essere molto sintetico e a toccare tre punti uno è il contesto il contesto è un contesto che non può essere solo italiano perché è vero che noi abbiamo il famoso 98% delle imprese sotto i 19 dipendenti ma perché questo è un contesto di reti le reti sono interconnesse per definizione come sa il Presidente Pimpinella e quindi noi in questo momento abbiamo vissuto quello che io sempre definisco probabilmente il più grande esperimento sociale della storia quasi 5 miliardi di persone che per due mesi e mezzo hanno fatto relazioni business affetti solo digitalmente e questo è un crinale da dove non si torna indietro i dati che venivano ricordati quelli del raddoppio degli speed sono anche figli della pandemia sono figli del diciamo così il meccanismo di consapevolezza post pandemico di tutti dopodiché noi ci dobbiamo anche rendere conto che tutti questi dati vanno ad alimentare a parte i social network ma comunque tutte queste piattaforme di intelligenza artificiale perché quelle piattaforme di intelligenza artificiale sono alimentate con i nostri dati che sono prevalentemente dati comportamentali perché facebook cerca la licenza bancaria in Irlanda piuttosto che Amazon apre Amazon Pay perché questi dati comportamentali sono efficacissimi efficientissimi ma gli manca il lato B e cioè i dati reddituali e i dati patrimoniali quando questi soggetti avranno tutti e due i dati non avranno più solo big data avranno better data e lì tutto il sistema della privacy e del mondo globale complessivo sarà in mano una serie di soggetti importanti che ti danno tante cose in diritto all'accesso ma che in realtà sono gli oligopolisti e questo è un tema importante in termini di contesto e anche in termini di consapevolezza di tutti noi che gli cediamo quei dati presiamo noi che gli regaliamo glieli regaliamo in termini di accesso e qui vengo al secondo tema del contesto rapidissimo Presidente Mule ricordava gli articoli della Costituzione io credo che uno sforzo al di là dell'agenzia su cui dopo farò un brevissimo passaggio debba essere quello di provare a immaginare così come abbiamo messo lo sport in Costituzione così come abbiamo messo l'ambiente in Costituzione di mettere il diritto all'accesso come diritto costituzionalmente protetto perché lì si generano i gap lì si genera disuguaglianza fra chi può accedere e chi non può terzo tema e chiaramente il digitale è un fatturabilitante quindi è trasversale è trasversale a tutti i processi imprenditoriali e noi stiamo facendo l'accordo che firmiamo ufficialmente giovedì è un pezzo della nostra intenzione di mettere a terra io sono ex ufficiale aeronautica sentivo prima una metafora aeronautica dico sempre che volare è bello ma atterrare è tutto per cui da questo punto di vista con il presidente Pimpinella cercheremo di capire quali sono le messe a terra pragmatiche di questo processo i voucher non bastano non bastano per le imprese non bastano per le persone e lì è chiaro che il secondo passaggio rapidissimo è quello sulla consapevolezza dei rischi veniva ricordato dalla professoressa noi cediamo dati continuamente non gli diamo nessun valore economico mentre per esempio i dati sanitari in Svizzera ci sono 17 mutua e non c'è il servizio sanitario nazionale gli vengono pagati se tu ti metti il braccialetto che manda i dati biometrici alla mutua la mutua ti paga i dati quindi anche quello è un processo di consapevolezza futura così come un processo di consapevolezza soprattutto per le imprese il tema della cyber security cioè noi sostanzialmente siamo ancora adesso voglio essere un po' brutale totalmente sottosviluppati da quel punto di vista ma a livello di singole imprese noi che abbiamo un milione e duecentosettantamila iscritti complessivi veniamo regolarmente attaccati perché pensano che noi abbiamo i dati lì sui server però quei dati non stanno sui server ma stanno in cloud e chi controlla il mio cloud? Google e ancora una volta quella consapevolezza deve essere importante così come quando arriveranno veniva ricordato le central bank digital currencies l'euro digitale il dollaro digitale signori tutti diranno che sono pseudo anonimizzati quei dati ma in realtà l'IP del telefono sempre quello è quindi anche lì il processo e arrivo al terzo punto e finisco il processo di education è fondamentale per questo è importante un'agenzia che tagli trasversalmente il digitale come fattore abilitante come strumentazione però anche verticalmente educazione finanziaria educazione fiscale con il Presidente del Nato ci eravamo fatti a settembre in occasione della prima presentazione della legge di bilancio una chiacchierata su radio parlamentare proprio su questo se tu non sai che i BTP hanno un vantaggio fiscale rispetto ad altri strumenti finanziari tu non puoi fare scelte consapevoli quindi questo ma soprattutto e ho finito io credo che ci sia un problema strategico di costruzione questo è l'unico spunto che mi permetto di dare al tema dell'agenzia di costruzione di reti noi viviamo in un mondo di reti e le reti girano su altre reti così come noi abbiamo la caserma dei carabinieri il vecchio medico condotto diciamo così forse non in tutti i paesi ma in tanti posti considerate che noi siamo un paese molto disperso territorialmente con tanti punti noi dovremmo provare a ragionare forse di un informatico condotto adesso un navigator non li chiamiamo navigator però insomma con qualcuno che possa aiutare anche come veniva ricordato un paese che in un processo di inverno demografico ha tante persone anziane che non sono abilitate al digitale quindi diciamo dei punti di riferimento e questo perché ho finito veramente perché io a me piace molto io vengo dal mondo della finanza quindi diciamo così ho un'ammirazione abbastanza importante per Warren Buffett Warren Buffett dice rispetto a tutti quelli che fanno i catastrofisti gli dice una cosa molto semplice il problema non è predire il diluvio il problema è costruire l'arca grazie 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 Mario presidente De Masi associazione dei consumatori mi sembra trasversale a qualsiasi tema quando si parla di digitale di rischi l'anello debole della catena vabbè andando anch'io saluto il presidente Mulè ringrazio te per l'invito mi pare che la qualità dei relatori le cose che si sono dette sono stati abbastanza voglio dire il livello è alto confortante per le cose che abbiamo di fronte ma come abbiamo ascoltato sia dai dati sia da quello che emerge sia da quello che noi ogni giorno ci dobbiamo confrontare con le persone che si rivolgono a noi poi le persone più umili perché è chiaro dalle associazioni vengono quelli appunto che non hanno la possibilità di pagarsi un avvocato o di fare da soli noi ci confrontiamo con un mondo di arretratezza l'abbiamo visto dal punto di vista dei dati che emergono il paese voglio dire dal punto digitale non ho messo bene 18esimo su 27 e il presidente Moulet parto da quello dice noi dobbiamo oggi avviare un cammino allora per la parte che mi riguarda io rappresento la Tconsum appunto è un'associazione promossa dalla CIS nel 1987 riconosciuta dal consiglio nazionale consumatori utenti siamo una delle 19 associazioni e su questo tema ci siamo già impegnati in passato con alcuni progetti che abbiamo realizzati spot finanziati all'epoca uno dal dal Mise oggi Mimit e uno da un'azienda del settore ma con scarsi finanziamenti e con pochi risultati rispetto a quello che si potrebbe fare io credo che quel cammino va accompagnato in più fasi come diceva il presidente di Agit e come rilevava Stefano però Stefano prima della formazione è l'informazione perché tanta gente proprio non sa oggi se parlo per esempio di una delle questioni che c'è calata addosso in questo 2024 la liberalizzazione del mercato elettrico sfido chiunque voglio dire a ragionare in questa giuncla distinguendo per esempio tra quello che è la tariffa placet o quella che è quella di tutela paritetica eccetera cioè adesso al di là degli acronomi la situazione è difficile il digitale deve dare appunto l'accesso a tutti mi ritrovo molto sulle cose che diceva il rappresentante delle piccole imprese perché diciamo è una delle questioni che caratterizza il nostro paese noi abbiamo un invecchiamento della popolazione ai noi questo è positivo dal lato voglio dire sociale ma sicuramente è una delle difficoltà perché far capire a un anziano e dargli la possibilità di accedere a innovazioni tecnologiche sempre più pressanti è difficile quindi dobbiamo accompagnare questo processo lo dobbiamo fare facendo rete come stiamo facendo oggi perché molte volte lo dico soprattutto ai rappresentanti dei autori delle agenzie varie eccetera una delle difficoltà che noi rileviamo è che anche tra di loro non sempre si colloquia e quindi questo è uno degli elementi che dobbiamo attenzionare per portare avanti voglio dire le questioni e poterle risolverle in tempo reale perché se no si creano dei contenziosi che a volte voglio dire potremmo risolvere in maniera differente preventivantoli e quindi accompagnandoli che cosa stiamo facendo noi noi ci stiamo impegnando su questo perché credo che ormai sia un fatto fondamentale stato detto i furti di identità le truffe le questioni che ogni giorno circolano sulla rete dal punto di vista anche delle questioni anche più scabrose eccetera sono tutti temi che dobbiamo assolutamente prevenire attenzionare e intervenire anche punendo diciamo tutti coloro che creano queste disfunzioni ma una delle questioni appunto è quello della rete e noi ci stiamo impegnando con questo protocollo che dovremo fare con la fondazione ma anche non solo dal punto di vista dell'alfabetizzazione digitale ma anche sull'educazione finanziaria e quindi su quello che può essere più utile ai cittadini per tutelare diciamo le persone ma soprattutto quelle che le persone rappresentano in questo paese come diceva Stefano perché non avendo noi materie prime non avendo voglio dire risorse del territorio abbiamo risorse nelle persone per esempio lui parlava dei manager io dico che dovremmo anche sensibilizzare tutti i NIT perché abbiamo un sacco di gente che oggi potrebbe essere avviata all'attività e la rete potrebbe essere utile a questo grazie grazie Mario grazie grazie a tutti i relatori mi sembrano che la parte azienda sia chiamata direttamente in caso allora dottoressa Nicoletti dottor Mischiatti abbiamo un panel adesso lato imprese quindi abbiamo grazie ovviamente a tutti i presidenti di associazione per il confronto grazie per la disponibilità a proseguire questi importanti temi abbiamo il dottor Ciulli che è l'head of a global service del gruppo Enel Mirko Mischiatti che è il digital technology operation di poste italiane e Andrea Volponi responsabile della struttura business digital di Ferrovie dello Stato mi sembra che diciamo le grandi aziende le aziende di Stato e top manager del settore ci sono allora è inevitabile che modelli di business e la formazione e la digitalizzazione diventano per voi core business in quello che è stato questo momento di trasformazione del sistema paese Stefano ha parlato di pandemia Stefano ha parlato di un mondo che ci ha consentito di cambiare in corsa dei modelli di business chiederei immediatamente subito a Mirko Mischiatti di poste italiane che ha in mano una struttura importante quali sono i prossimi passi di poste italiane e cosa prevedete per il futuro intanto buonasera a tutti grazie al Presidente grazie a tutti quanti ma riprenderei partirei un attimino da quello che ha detto anche il Presidente noi chiaramente abbiamo degli indici diciamo relativi all'alfabetizzazione digitale all'alfabetizzazione finanziaria che sicuramente sono perfettibili a questi però si somma da una parte un grosso tema legato ad aspetti di tipo demografico abbiamo parlato prima dell'invecchiamento abbiamo parlato prima diciamo di una serie di soggetti che stanno in qualche maniera retrocedendo dalle aree interne e questo è sicuramente un grande problema abbiamo un problema di diciamo adozione di tecnologie esponenziali che stanno cambiando completamente lo schema di gioco esiste un indicatore che si chiama diciamo un indicatore che si chiama tech intensity cioè fondamentalmente la capacità di adottare nel minore tempo possibile le tecnologie esponenziali questa è la garanzia di avere successo oppure no nel mondo che sta arrivando ed è chiaro che da questo punto di vista l'Europa ha perso un valore competitivo rispetto ad altri diciamo ad altri continenti e quindi sicuramente questo è un fattore da tenere in considerazione ma una delle cose più importanti da tenere in considerazione è legata al fatto che il mondo che sta arrivando è un mondo completamente diverso io ho tre figli piccoli per loro e questo magari eticamente può pure essere un problema non un problema per loro la differenza tra il mondo reale e il mondo diciamo virtuale la differenza tra il mondo diciamo analogico e il mondo digitale non esiste cioè non c'è discontinuità tra questi mondi allora noi siamo stati diciamo abituati a vivere la transizione digitale come dei fruttori monodirezionali di contenuti e di servizi no? uno schema complicato però certamente c'era qualcuno che trasmetteva dei contenuti e qualcuno che fondamentalmente fruiva questi contenuti o qualcuno che in qualche maniera erogava dei servizi e qualcuno che fruiva di questi servizi il nuovo mondo è tutta un'altra cosa cioè il nuovo mondo ha bisogno di uno scambio bidirezionale tra il mondo digitale e il mondo diciamo analogico tra il mondo fisico e il mondo reale che se ne dica per cui a volte si dice creiamo le infrastrutture ma le infrastrutture non sono diciamo sufficienti sono abilitanti ma non sono sufficienti nel senso che alla fine quello che sta arrivando che se ne dica la scuola del futuro la sanità del futuro piuttosto che l'industry.5.0 ha bisogno di modelli di servizi di modelli operativi distribuiti c'è una capacità di far funzionare un sistema nervoso centrale ma anche un sistema nervoso periferico tutti sono super diciamo no excited sul fatto che faremo la broadband piuttosto che accederemo a una videoconferenza per fare la telemedicina ma alla fine il farmaco a casa delle persone chi lo porterà i device chi li porterà la gestione delle persone che magari hanno un problema di digital divide chi la gestirà e quindi quello che dico è che bisogna completamente ripensare le filiere bisogna creare delle architetture di servizio completamente diverse va bene fare la guerra alle big giant del mondo tecnologico ma il punto non è quello cioè il punto è ripensare la catena del valore scomporre ricomporre la catena del valore e capire dove si vuole stare questo è diciamo il vero punto di vista e questo è quello che ha fatto Poste cioè Poste a differenza di tante aziende ha deciso di non arretrare ha deciso di rimanere sul territorio ha deciso di rimanere diciamo inclusivo ha deciso diciamo di gestire questa transizione digitale conservando gli stessi valori che per 160 anni fondamentalmente sono stati valori di Poste italiane e cosa abbiamo fatto di tutto abbiamo fatto di tutto nel senso che alla fine la campagna vaccinale abbiamo avuto un ruolo da protagonisti perché è vero che c'era un mondo digitale però in realtà noi stavamo aperti non eravamo digitali cioè io ricordo quando partì voglio dire il primo caso diciamo di pandemia rimasi una nota a capire come portare all'interno della zona rossa i soldi dentro gli ATM perché tutto era chiuso e la gente non poteva prendere soldi nemmeno per mangiare oltre al fatto che abbiamo costruito la piattaforma diciamo per gestire la prenotazione dei vaccini e così via piuttosto che lo speed cosa abbiamo fatto con lo speed beh lo speed oggi ha avuto per Poste italiane oggi diciamo di tutti gli speed 27 milioni sono di Poste italiane ma perché sono di Poste italiane perché abbiamo messo io gestisco una struttura di 8 mila persone quindi non solo la parte tecnologica ma anche la parte operativa noi abbiamo 600 persone che rispondono al telefono quando qualcuno ha problemi sugli speed noi siamo quelli che all'ufficio postale scarichiamo l'app e facciamo vedere alle persone anziane come funziona l'app non è vero che ci sono le persone digitali e le persone analogiche ci sono delle persone che dovranno interfacciarsi con un mondo che sarà necessariamente un mondo ibrido e questo è quello che è successo in Poste quali sono stati gli ingredienti gli ingredienti sono stati un percorso di tipo evolutivo ce lo insegnava Galileo Galilei non si può più pensare nel mondo che sta arrivando che uno impara una cosa e poi fa quella cosa all'infinito no c'è un mondo che va veloce e bisogna andare veloce insieme al mondo bisogna avere un tema di contaminazione non si può pensare ai tecnici al mondo dei business le filiere vanno ripensate con gli esperti di tecnologia ma anche con gli esperti di filiera e dall'altra parte c'è un tema di cambio culturale questo è quello che abbiamo fatto in Poste Italiane e questa cosa cosa ci ha portato ci ha portato a passare da 6 milioni di interazioni complessive a 23 milioni di interazioni quindi noi siamo un'azienda accesa noi interagiamo 23 milioni di volte tutti i giorni con le persone abbiamo avuto 3.3 billion di interazioni digitali siamo cresciuti da abbiamo più o meno oggi 14 milioni di wallet nei nostri sistemi di pagamento a tutto questo chiaramente abbiamo affiancato anche tutto un tema diciamo di corsi legati all'inclusione diciamo sia di tipo finanziario che di tipo digitale quindi noi già oggi tutte le settimane nelle zone interne diamo formazione gratuita per poter supportare questo tipo di cambiamento quindi chiudo dicendo che alla fine la ricetta di poste è una ricetta che diciamo ha deciso da una parte di gestire e di assecondare il mercato ma dall'altra parte di rimanere sul territorio e dare diciamo un'impronta istituzionale e anche molto inclusivo alla transizione digitale grazie grazie Mirko grazie soprattutto per le considerazioni di Vision che stavi facendo ovviamente parlando di un mondo ibrido serve sempre di più il rapporto con le persone e il rapporto poi diventa periferico e territoriale quindi grazie anche al progetto che poi lo stanno facendo con il progetto Polis Romina parliamo di Made in Italy parliamo di come il Made in Italy e il digitale può incidere sulla trasformazione del verticale soprattutto di queste realtà che oggi cercano nell'esportazione un valore commerciale nuovo buonasera a tutti grazie per l'invito al Presidente Moulet Presidente Pimpinella la mia è una piccola società che rappresenta l'80% di quel tessuto economico di cui parlavamo prima ho avuto esperienze come imprenditrice ma anche come manager di azienda e dieci anni fa ho aperto un terzo capitolo della mia vita quella di portare il Made in Italy all'estero perché nelle mie esperienze vedevo poco Made in Italy tanta Spagna tanta Francia da tutto questo è nata una collaborazione col governo degli Stati Uniti che mi hanno incaricato diciamo così di sviluppare un rapporto un po' intenso per quanto riguarda il Made in Italy di importare il Made in Italy in Florida e attualmente siamo alla terza edizione che allestiamo un padiglione dedicato al Made in Italy in un contesto un'expo dove particimo 70 nazioni ora nella mia esperienza visto che lavoro a fianco sempre di piccole e medie imprese come consulenti di temporary export manager ho notato che mentre nelle primi anni e parlo nell'arco i dieci anni c'era un atteggiamento c'erano delle barriere linguistiche per gli imprenditori piccoli imprenditori ad oggi invece il nanismo è causato da capaci dalla impossibilità di investire in soluzioni tecnologiche quindi prima si parlava di cyber security si parlava di data center di dati del fatto che dobbiamo comunque sono assets necessari che noi dobbiamo mantenere in house cioè come anche quelli in Made in Italy ma c'è anche tutto un discorso legato all'e-commerce spesso ci siamo interrogati col presidente Pempinella sul discorso che ad oggi l'e-commerce ha una fetta di mercato è una fetta di mercato molto importante per il Made in Italy ancora siamo a bassissimi diciamo tassi bassissimi ma abbiamo delle grosse potenzialità e se io fossi governo e dovessi investire su una unicorn cosa che sta facendo il governo francese che già ne ha finanziato i 25 perché si sta preparando come ha fatto già gli Stati Uniti perché la Silicon Valley non è stata fatta solo da imprenditori ma da una partnership pubblica privata il governo degli Stati Uniti ha investito il governo della Francia sta investendo adesso già in 25 unicorn che saranno funzionali al sistema produttivo e al sviluppo a rendere la Francia più competitiva nei prossimi 10 anni allora se io fossi adesso il governo italiano avrei solamente diciamo solo una di unicorn che vorrei realizzare magari insieme a tutti quanti le persone in questa platea ma sarebbe quella di fare un marketplace italiano perché ad oggi e qui ci ho dei dati mi è stato riportato che su Amazon nel 2021 in piena pandemia la piattaforma online ha visto un aumento significativo di piccole e medie imprese italiane con un incremento del 30% rispetto all'anno precedente portando per la prima volta oltre 200 aziende a superare il milione di euro di ricavati i numeri ci sono le aziende italiane sono ci sono abbiamo un aspetto che non ha nessun altro il media in Italy è unico è l'unicità la creatività italiana possono comprarla i francesi possono comprarli gli americani con Amazon sul versante e-commerce ma è tipicamente italiana per cui la creatività rimane in Italia e non è non può essere copiata per cui noi dobbiamo far leva su questo e la tecnologia deve essere un elemento che possa elevare la tradizione della creatività italiana verso scenari più grandi e distogliere questo diciamo ampliare la possibilità le potenzialità delle piccole medie imprese renderle più competitive sui mercati internazionali per cui ad oggi le aziende stanno usando moltissima tecnologia mi rifaccio diciamo parlo del digital marketing del social marketing utilizzano per la propria promozione ma poter mettere a sistema tutto questo anche tramite questa agenzia si potrebbe fare molto di più e si potrebbe anche dare veramente un grande supporto alle piccole medie imprese grazie grazie Romina ovviamente il marketplace italiano è il tema dei temi presidente quando si parla di pagamenti quando si parla di creare un ecosistema completamente italiano poi però bisogna fare il paio con le strutture e con la tecnologia abilitante che necessariamente poi debba essere ovviamente governata dal sistema italiano non da operatori che danno questi servizi in service passiamo agli ultimi due interventi abbiamo l'ingegnere Andrea Volponi che è responsabile della struttura del business digital service di ferrovie dello Stato ingegnere tutti pensano che i treni non siano tecnologici oggi ferrovie dello Stato trasportano oltre 6 milioni di persone prendono il treno per spostarsi nelle regioni e oltre un milione di passeggeri usufruiscono di un servizio di trasporto regionale l'altro giorno quando parlavamo del sistema ferroviano parlavamo di un sistema interconnesso a un mondo dei dati a un mondo di un pagamento al mondo in cui una persona oggi può fruire di più servizi quali sono i prossimi passi di ferrovie dello Stato anzitutto buongiorno a tutti grazie per l'invito dal presidente Mulè grazie per l'invito dal dottor Pimpinella il gruppo ferrovie dello Stato riconosce nell'innovazione e la digitalizzazione delle leve fondamentali per l'abilitazione degli obiettivi del proprio piano industriale do anche qualche altro numero significativo giusto per dare un pochino la dimensione del fenomeno gestiamo ad oggi 17.000 km di linee ferroviarie 32.000 km di linee stradali in un territorio che è complesso da un punto di vista morfologico come quello italiano e quindi questo poi implica il fatto che abbiamo 1.700 gallerie ferroviarie 2.000 stradali circa 43.000 ponti su questa infrastruttura ogni giorno circolano 10.000 treni e circa 7,4 milioni di automobili quindi comprendete bene insomma qual è la complessità quindi diciamo che le leve di innovazione e tecnologiche non solamente sono un qualcosa diciamo di abilitante ma molto sommato sono un qualcosa di strettamente necessario 3 sono i fattori chiave che abbiamo individuato il primo è l'innovazione il secondo è la trasformazione digitale e il terzo sono le persone partendo dall'innovazione l'innovazione come gruppo stiamo investendo parecchio sugli ambiti di innovazione partecipiamo a diversi parchi tecnologici nazionali internazionali però mi piace anche portare diciamo due esperienze in ambito nazionale che sicuramente sono in questo momento delle esperienze a mio avviso di successo ovvero il centro nazionale di mobilità sostenibile e il centro nazionale di high performance computing in particolare con questo secondo centro nazionale stiamo di fatto realizzando quella che è una delle reti di calcolo a capacità più elevata tutto sommato a livello mondiale quindi siamo tra le prime al mondo sicuramente tra le prime dice al mondo e questo sicuramente è un fiore all'occhiello per l'Italia nonché un fattore abilitante poi per tutta una serie di iniziative di costruzione di risoluzione di problemi complessi l'innovazione è un qualcosa che poi permea quelli che sono i servizi digitali che andiamo ad offrire verso i nostri clienti verso i cittadini poi di fatto non essendo un'azienda di sistema in particolare sul mondo passeggeri si sta investendo tantissimo sul tema dei pagamenti quindi per semplificare diciamo la modalità con cui i nostri cittadini possono effettuare i pagamenti i canali che possono essere utilizzati ma anche quelli che sono dei servizi che vogliamo offrire ai nostri cittadini quindi l'obiettivo in questo momento è quello di diventare un operatore di servizio che è in grado di offrire servizi di mobilità sostenibile e multimodale quindi quella famosa integrazione ferro-gomma quindi un trasporto che non è più solo un trasporto ferroviario o un trasporto su gomma ma che va a integrare e consente poi al cittadino di scegliere diverse modalità a seconda diciamo di quelle che sono le opportunità da questo punto di vista abbiamo diverse sperimentazioni in particolare una in Puglia dove abbiamo appunto siamo riusciti ad integrare diciamo questo tipo di intermodalità e quindi in questo momento diciamo che su aree selezionate è possibile fare questo tipo di scelta abbiamo visto l'infrastruttura che è un'infrastruttura assolutamente complessa anche da questo punto di vista ci sono diverse iniziative di digitalizzazione che sono assolutamente fondamentali ne cito alcune la prima è la building information model quindi la possibilità di andare a gestire gli asset del gruppo attraverso sistemi informatizzati quando parliamo di asset intendiamo asset veri fisici quindi intendiamo il ponte intendiamo la galleria quindi da questo punto di vista riuscire a gestire tutto il processo tutto il ciclo di vita di questi asset da un punto di vista digitalizzato è assolutamente fondamentale quindi partiamo dalla fase di pianificazione progettazione attraverso il cantiere digitale la realizzazione fino ad arrivare poi alla manutenzione del tempo nella manutenzione del tempo è interessante anche tutta l'esperienza che abbiamo maturato in ottica di digital twin quindi la ricostruzione anche del gemello digitale che non è solamente una foto di quella che è l'idea diciamo una foto digitale di quello che è la struttura fisica ma è anche in grado di accompagnare poi l'opera nel suo ciclo di vita e quindi anche su questo cito un progetto che stiamo conducendo con ANAS che prevede la gestione di sensoristica sui vari ponti che ci consente appunto di andare a verificare qual è lo stato di salute dei ponti raccogliere tutti questi dati in una piattaforma centralizzata applicare sopra al punto degli algoritmi anche di intelligenza artificiale che ci consentiranno di lavorare anche in ottica predittiva anche qui per dare qualche numero il progetto è iniziato lo scorso anno si dà l'obiettivo di andare a installare questi sensori e attività di monitoraggio su mille ponti entro il 2026 naturalmente saranno i mille ponti più critici per l'azienda si parlava prima di Smart Road Smart Road è anche un altro progetto sicuramente interessante dove abbiamo un corso delle sperimentazioni quindi chi ha percorso l'A90 per raggiungere l'aeroporto di Fiumicino avrà visto che ci sono delle colonne sul lato quelle colonne sono proprio diciamo embeddano le colonne quindi hanno dentro tutto ciò che serve per il dialogo tra sistema informativo e macchina e quindi è qualcosa che abilita poi le prime sperimentazioni sulla guida autonoma quindi anche queste sono iniziative diciamo che in questo momento si stanno portando avanti in modo abbastanza diciamo puntuale abbiamo poi portato avanti tutta una serie di iniziative di sperimentazioni in ambito early detection sappiamo insomma la fragilità anche del nostro territorio quindi avere diciamo di riuscire a rilevare i primi sintomi di un problema magari anche dovuto ai cambiamenti climatici in corso è assolutamente fondamentale e quindi abbiamo una serie di sperimentazioni che sono volte a rilevare quelli che sono i difetti di eventuali difetti di gallerie ferroviarie sia in modo fisso che in modo mobile quindi in modo fisso con sensoristiche in modo mobile con treni diagnostici che sono in grado di appunto di comprendere qual è lo stato di usura delle varie infrastrutture oppure lo scalzamento delle fondazioni dei ponti nei fiumi il monitoraggio delle frane quindi accorgersi se e quando c'è una frana che interessa poi un sedime stradale o ferroviario e non ultimo la gestione dei terremoti e quindi anche qua avere subito dall'inizio diciamo l'informazione di un terremoto in corso l'entità e collegare questo ai strumenti di emergenza chiaramente aiuta poi a prevenire diciamo disastri ben più ben più gravi non si può parlare di innovazione e digitalizzazione oggi senza fare un accenno chiaramente all'intelligenza artificiale che stiamo guardando con molto interesse e anche con molta attenzione sono assolutamente d'accordo con tutte le considerazioni precedenti che come tutti gli strumenti vanno utilizzati nel migliore dei modi e quindi chiaramente devono essere utilizzati per favorire il lavoro delle persone e sono convinto anch'io che non sostituiranno le persone ma saranno uno strumento in più a loro disposizione ci sono una serie di prerequisiti quindi chiaramente una forte attenzione al dato perché se il dato non è di qualità possiamo applicare l'intelligenza che vogliamo ma l'output sarà altrettanto scarso e non ultimo come ci stiamo muovendo noi su base di use case e quindi identificare dei specifici casi di business e lavorare su quelli e stiamo costituendo un centro di competenza quindi stiamo specializzando un nucleo di persone che chiaramente hanno quelle competenze tecniche quelle attitudine tali per cui si può investire sulla formazione per appunto strutturare quello che è un centro di competenza che poi garantirà diciamo l'erogazione di tutti i successivi servizi e l'adozione dei paradigmi di intelligenza artificiale questo mi consente di collegarmi all'ultimo punto che è il punto che riguarda le persone qualsiasi cambiamento qualsiasi trasformazione non può che passare per le persone quindi anche su questo stiamo investendo molto in termini di formazione ma non solo mi piace qua raccontarvi magari la nostra esperienza se può essere di spunto oggi le piattaforme ci consentono molto più rispetto a quello che consentivano una volta quindi stiamo in qualche modo lavorando anche per superare il paradigma di l'IT è gestita tutta e sola all'interno di una struttura che si occupa di IT quindi stiamo cercando di democratizzare l'accesso al sapere digitale quindi in particolare attraverso delle piattaforme che con semplici configurazioni quindi senza necessità di competenze di sviluppo di programmazione consentono di costruire dei servizi e stiamo rendendo disponibile a una popolazione che tipicamente di mestiere non fa uno specialista digitale anche questo secondo me è un'esperimento un'esperienza molto importante che stiamo portando avanti in azienda quindi per concludere innovazione tecnologie e trasformazione digitale non sono solo fattori abilitanti ma per un'azienda di sistema un'azienda complessa sono assolutamente una necessità su cui bisogna investire da questo punto di vista è fondamentale assolutamente fondamentale un ruolo di cooperazione tra le aziende di sistema un ruolo fondamentale di facilitatore di indirizzo di regolatore lo deve avere lo Stato perché chiaramente poi ci deve guidare diciamo anche in questo percorso e non ultimo un tema di collaborazione anche con gli enti di ricerca che ci possono mettere a disposizione quelle che sono le migliori competenze che abbiamo sul paese e sono assolutamente da valorizzare unitamente naturalmente a tutti gli investimenti e alla conoscenza di processi di business che possono portare poi le aziende di sistema stessi chiudo citando un paio di esempi diciamo anche da questo punto di vista fattivi il progetto Gigabit Railroad che è volto diciamo a migliorare la connettività sull'interno territorio nazionale quindi diciamo abbiamo delle dorsali importanti da un punto di vista ferroviare e stradale stiamo iniziando diciamo a utilizzare questi dorsali per aggiungere fibre e connettività che poi è la base di qualsiasi servizio digitale naturalmente senza di quello non si può fare nulla oppure due accordi recenti ed importanti che abbiamo siglato proprio nell'ultimo mese si può dire il primo che riguarda una collaborazione composta in realtà due collaborazioni il primo sui pagamenti digitali la seconda collaborazione sull'ambito logistica per garantire il trasporto delle merci intermodali e in ultimo un'altra intesa siglata con Open Fiber Centro e Cellnext per uno studio di fattibilità per utilizzare la tecnologia 5G per illuminare la galleria del Frejus sia per l'ambito stradale che per l'ambito ferroviario vi ringrazio grazie 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 ingegnere allora l'ultimo intervento del dottor Ciulli che è l'head of global service di Enel allora dottor Ciulli Enel è un'azienda globale che è presente in tutto il mondo e che oggi ha contrattualizzato oltre 5 milioni di persone lato energia e oltre 3 milioni per quanto riguarda la fornitura di gas sicuramente sono dati che portano una gestione attraverso meccanismi non solo digitali ma tecnologici quali sono i prossimi passi di Enel allora io come Enel Global Services rappresentiamo una direzione un'organizzazione di Enel che si occupa di procurement ICT e operation a livello globale quindi su oltre 20 country diciamo che l'innovazione abbiamo detto è ormai sinonimo di digitalizzazione digitale l'Enel ha un percorso digitale che definirei maturo abbiamo oltre 1700 applicativi l'80% è stato rinnovato negli ultimi tre anni siamo un'azienda totalmente in cloud e questo è importante se lo guardiamo anche in prospettiva siamo un'azienda completamente paperless tutti i processi sono stati digitalizzati siamo un'azienda in cui ci sono 150.000 dispositivi in campo sulle persone e svariate migliaia di connettività su tutte le infrastrutture quindi sicuramente un mondo complesso sono 3.000 colleghi che operano nel mondo dell'ECT ce ne sanno altri 7.000 che fanno parte dei nostri fornitori che annualmente ci supportano abbiamo all'interno oltre 1000 sviluppatori abbiamo all'interno circa 80 giovani che si occupano dell'intelligenza artificiale con un'ansialità media inferiore a 3 anni e lo fanno ormai da qualche tempo tutto questo alla ricerca di cercare di presidiare al meglio tutte quelle che sono i problemi tecnologici delle infrastrutture ma anche con un pizzico di orgoglio nel gestire a livello globale i 20 country di cui parlavamo prima praticamente dall'Italia e con i colleghi che sono ovviamente anche in quei country il 50% delle persone in Italia il resto è in Spagna in America in Sud America e in India quindi rapporti quotidiani e giornalieri sicuramente l'intelligenza artificiale è ormai un trend inconfutabile di questi tempi è un trend che ha dalla sua una peculiarità crea sicuramente una maggiore facilità di utilizzo e di apertura della tecnologia a tutti noi in quanto l'interrogazione è molto semplice e le prospettive che ormai abbiamo valutato noi abbiamo diciamo parlando di machine learning diciamo AI di primo livello abbiamo svariate centinaia di applicativi in campo nel prossimo ALF abbiamo una pipeline di oltre 100 applicativi anche di AI generativa che stiamo sviluppando quindi c'è molto fermento perché ne vediamo diciamo dei benefici significativi benefici che vengono dalla semplicità di utilizzo che porta poi a una maggiore produttività data da una gestione del tempo più efficace e quindi efficacia ed efficienza dove la stiamo usando dove l'abbiamo usata la stiamo utilizzando in tutte quelle attività che riguardano ovviamente gli sviluppi commerciali il rapporto con i nostri clienti abbiamo 12 milioni di clienti il 47% sono clienti di tipo digitali quindi hanno con noi un rapporto digitale il 57% invece utilizza la fatturazione elettronica quindi anche questo è un numero buono allora se lo confronto con gli altri country di cui gestiamo le stesse dinamiche più o meno i numeri sono molto simili sicuramente se andiamo su altre industrie ci sono performance estremamente più elevate sicuramente nell'intelligenza artificiale stiamo sviluppando ad esempio abbiamo sviluppato applicativi con cui i nostri tecnici verificano la sicurezza del lavoro che stanno facendo inviando delle foto e l'intelligenza artificiale verifica insieme ovviamente alla computer vision se diciamo il contesto è corrente correlato a quelle che sono le norme di sicurezza ovviamente lo stiamo usando nel forecasting quindi in tutte quelle analisi predittive dei consumi di energia e di domanda di energia che cosa stiamo osservando abbiamo detto sicuramente dei benefici e dei miglioramenti di efficienza c'è un tema interno che riguarda le persone noi non abbiamo problemi abbiamo detto un'agenda digitale quindi il percorso e la sofferenza del passaggio al digitale i miei colleghi l'hanno già portato avanti quello che stiamo vivendo invece è la capacità di trattenere risorse all'interno dell'azienda e questo ci pone degli interrogativi importanti anche come diciamo come paese in quanto non solo è difficile reperire risorse che hanno capacità ma poi è anche difficile trattenerle soprattutto se andiamo sui giovani una delle cose su cui ci stiamo impegnando con le funzioni del personale è quello per esempio di costruire carriere ad hoc per i tecnici perché ovviamente il ragazzo che sviluppa intelligenza artificiale generativa se te gli dici fra 5 anni diventi quadro ti guarda e dice grazie ma non è proprio quello che aspira lavorare da casa esatto quindi ecco lavorare da casa piuttosto che diciamo sviluppi di tipo di competenze o di certificazioni che sono le cose più ambite sono percorsi che però portano grandi gruppi a doversi correlare con quello che è il mercato di riferimento no? mediamente in un'azienda grande in un gruppo grande il core business è quello che è detto ai comportamenti ma ha detto anche i comportamenti di strutture di servizio come l'IT come le customer operation che di per sé invece sul mercato sono delle industrie diverse quindi si applicano delle regole che vanno bene per il mercato elettrico a chi sviluppa software o a chi lavora magari a livello commerciale di customer care o a chi fa acquisti quindi ecco dobbiamo un attimo anche qui con intelligenza sviluppare modelli e practice che ci vedono più vicini alle industrie di riferimento quando parliamo di mestieri diversi c'è una cosa che io ho sentito sicuramente la sicurezza è una sicurezza importante abbiamo squadre di cyber security che quotidianamente si battono diciamo per difendere il patrimonio informatico dell'Enel da tutti gli attacchi che abbiamo abbiamo altresì bisogno invece di fare rete come dicevamo prima di correlarci tra aziende parliamo stiamo parlando adesso dei rischi delle AI e quindi sappiamo che c'è l'AI app che si sta sviluppando sarà approvato verrà diffuso ma immaginiamoci cosa succede in un'azienda nel momento in cui questi regolamenti poi diventano operativi dobbiamo avere modelli di governance interni che sono correlati ci stiamo interrogando su questi abbiamo visto che già ad esempio in Italia aziende diverse hanno utilizzato modelli diversi ma se poi io scendo un attimo a livello delle piccole aziende immagino la complessità o l'impossibilità che questi hanno di sopperire quindi c'è bisogno sicuramente di momenti come questo c'è bisogno di momenti dedicati al rendere pratico quello che teoricamente sembra magari perfetto ma poi nella realtà a volte ha complessità di intervento l'Enel investe in continuazione i processi di trasformazione investiamo oltre un miliardo all'anno nel mondo dell'informatica quindi questo ci pone ovviamente da un lato all'avanguardia dall'altro alla ricerca sempre di miglioramenti che sono importanti anche per cercare di rendere al massimo per i nostri stakeholder e per i nostri clienti grazie 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 perché soprattutto siamo rimasti in tempo Presidente Bonè ringraziamo anche per la sua disponibilità che ha ascoltato tutti gli interventi grazie a tutti i relatori diamo appuntamento al prossimo incontro che ci sarà il Digital Day il 22 maggio grazie grazie a tutti